è stata fatta la commissione ha lavorato per quasi due anni e erano tutti diversi tutti rospi di diversi pozzi tutti pensavano diverso ma hanno lavorato insieme e si sono messi d'accordo fino a certo punto ma ognuno di loro poi ha la propria visione che non concorda con quelle di altri ma è fondamentale che non c'è certezza che fosse un'ordenazione con la stessa forma e la stessa finalità dell'ordenazione maschile alcuni dicono c'è il dubbio andiamo avanti studiare io non ho paura lo studio grazie 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 grazie